Teleriva Dolce Riva, una televisione a carattere internazionale, veduta dal satellite della nostra bene amata Terra, ma in un salto iper spaziale finiamo in Florida, in Florida a Sanibel, dove una nostra inviata è andata apposta a documentare queste meravigliose spiagge caraibiche dell'oceano. Se hanno valenza o meno rispetto alla nostra meravigliosa Teleriva Dolce Riva, una televisione a carattere internazionale. Eccoci arrivati a Sanibel, Florida, in una giornata particolarmente soleggiata. Sanibel è famosa per le sue conchiglie, per la riserva naturale piena di alligatori e siamo qui, siamo qui, siamo qui, ma certo non possiamo esimerci dal notare il luogo in cui siamo. Teleriva Dolce Riva, una televisione internazionale. Ci avviciniamo alla riva, questo è il Golfo del Messico e vogliamo constatare con i nostri occhi se le bellezze all'alto capo del mondo possono competere con la bellezza selvaggia che ben conosciamo nella nostra riva. Ci guardiamo intorno, effettivamente non è bello come pensavamo. Ci sono le palme, c'è la spiaggia, abbiamo l'oceano di fronte a noi, ma ci manca qualcosa. Il nostro Mediterraneo, Teleriva Dolce Riva, una televisione internazionale. Grazie. Grazie.